Lunedì 25 ottobre, nell'Aula Magna del Polo Culturale, è stato inaugurato l'anno accademico dello studio teologico Paolo VI del Seminario Diocesano di Brescia Maria Immacolata. La giornata è stata introdotta da Don Sergio Passeri, rettore del seminario, e da Don Mario Zani, prefetto degli studi. La prolusione a conclusione del suo cinquantennale insegnamento nello studio teologico del seminario è stata tenuta da Monsignore Giacomo Canobbio sull'apporto dello studio della teologia alla formazione intellettuale del presbitero. Dovrebbe aiutarli al ministero, uno dei cui compiti fondamentali è quello di annunciare e spiegare il Vangelo, tenendo conto della cultura nella quale viviamo. E quindi il ministero suppone una capacità interpretativa della cultura stessa. Studiando si capisce perché la cultura pone certi fenomeni, pone degli interrogativi, e gli studenti si preparano a rispondere adeguatamente a questi interrogativi. Sono un tentativo di descrizione delle varie tipologie di studenti in rapporto allo studio della teologia. Faccio una specie di fenomenologia dello studente per far vedere come sia necessario che lo studente passi dal sopportare lo studio ad amare lo studio della teologia in vista del ministero. Al termine è intervenuto anche Monsignor Pierantonio Tremolada.